Berlusconi non si ricandiderà. Ad annunciarlo è Angelino Alfano. Il segretario del PDL si spinge anche oltre e punta sulla coalizione con l'Udc per la prossima tornata elettorale. Tu, mette in chiaro il segretario PDL al leader Udc per Ferdinando Casini, hai il dovere di unire i moderati. Intanto anche l'ex premier Silvio Berlusconi si esprime in merito. Non escluderei Mario Monti come leader del raggruppamento dei moderati, ha detto parlando in diretta Canale 5. Monti ha sempre gravitato in quest'area. L'ex premier ha tra l'altro aggiunto di avere avuto contatti con altre personalità e che ci sono diversi nomini la possibile lista dei candidati leader. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. Passiamo subito alle altre notizie. Ancora politica? Stiamo pensando ad un intervento chirurgico sul titolo quinto della Costituzione per aggiustare alcune cose. Lo aveva annunciato il ministro Patroni Griffi alla Commissione Affari Costituzionali alla Camera, versione poi confermata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà. Oggi infatti la legge sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Prima di avviare l'iter però sul testo ci sarà un consulto con il capo dello Stato, Giorgio Napolitano. I tempi sono strettissimi. Per cambiare la carta costituzionale serve un doppio passaggio in Parlamento, prima la Camera e poi il Senato, e la maggioranza qualificata dei due terzi, altrimenti potrebbe scattare il referendum costituzionale. Ed ora la cronaca. L'Alto Forno 1 dell'Ilva di Taranto, il più vecchio dello stabilimento, sarà spento entro la fine di novembre. Lo ha annunciato il direttore dello stabilimento, Adolfo Buffo. L'incarico è stato affidato alla società Paul Wurt, che si occuperà anche del progetto per ricostruirlo. La stessa ditta è stata anche incaricata di progettare lo spegnimento e la ricostruzione dell'Alto Forno numero 5 entro il 2015. Per il presidente della Regione Puglia, Nichivendola, l'Ilva sta facendo un gioco pericoloso. E chiudiamo con lo spettacolo. È stata la notte del grande ritorno ai concerti di Celentano dopo 18 anni. Rock Economy all'Arena di Verona, in diretta su Canale 5, e dunque sancito il ritorno del molleggiato. Celentano parte con Svalutation e poi regala al pubblico molti altri cavalli di battaglia, tra cui la sua indimenticabile Pregherò. Il pubblico ha apprezzato soprattutto i tanti momenti musicali, ma non sono mancate le pause e i sermoni. Ospiti della serata Jean-Paul Fitoussi, economista francese, e i giornalisti Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Applauditissimo il duetto con il collega ed amico Gianni Morandi. Ed era questa l'ultima notizia del nostro ITG. Grazie dell'attenzione. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.